Ehi gente, sapete che ore sono? È l'ora del trauma con zio Barbascura! Bentornati su Scienza Brutta, il programma che vi fa dire PERCHÉ? PERCHÉ ho guardato questo video? Ridatemi la mia innocenza! E oggi mi piacerebbe parlarvi di un mostro... Eh no, non sto parlando di quei mostri tarocchi del cinema! Federico Kruggero, Coso, Rocco, ma che è? Ma no! Ma oggi vi parlo di un mostro vero! Andiamo con ordine! Immaginate di andarvi a sedere sul vostro bel divano Ikea da 2,45€ A casa vostra... Ah, siete belli rilassati, tutto è perfetto! Toh! Guarda! Una nocciolina! Gnammi! Tutto è perfetto! Stai in petto a Cristo! Quando? Ad un certo punto... Sei morto! E questo è il paradiso? Il paradiso! Ragazzi, venite a sentire sto coglione! Ma scusa, come sono morto? Sei stato mangiato! Ma se mi ero appena stato sul divano! Come cazzo? Appunto! Sei stato mangiato dal divano! Ah! Ah! È esattamente quel che pensano i pesci ogni giorno! Non solo devi convivere con una umidità da paura, ma non ti puoi manco fidare di niente! Gli altri pesci sono più grossi! O sono stronzi! Sono stronze le pietre! Le piante pure! E pure le lucette sono stronze! Questa è stata dura! Essere un pesce fa schifo! Pure tua madre, pure se non hai fatto niente, pure se te ne stavi là per i fatti tuoi! Se gli viene fame si gira e ti mangia! Che bello! Altro che cantare! Vatti a nascondere che qua finisce male! Gli oceani e i mari ricoprono circa il 71% della crosta terrestre e sono abitati fino alle loro profondità più recondite! La maggior parte delle forme di vita del pianeta si trovano lì! Nelle acque! E noi non siamo nemmeno in grado di conoscerne il numero esatto visto che esplorare lo spazio è più facile che esplorare quelle profondità! Sì, insomma, se cercate un mostro è là che dovete cercarlo! Nel fondo del mar! Nel fondo del mar! Nel fondo del mar! Vedi questo ad esempio! Vedi che schifo! Ma oggi vorrei parlarvi di un mostro di cui probabilmente ignorate completamente l'esistenza! Un mostro che prenderà un posto speciale nel vostro cuore! Più o meno lì dove si annidano gli infarti! Ciurma! Ho il piacere di presentarvi il nostro ospite speciale! Il verme Bobbit! Per gli amici, Bobby! Il Bobbit è un simpatico predatore acquatico delle sembianze di una vulva dentata che si annida sul fondale marino di acque generalmente calde come quelle dell'Indo-Pacifico, del Mar dei Caraibi e di tutto il Mediterraneo Gesù! Gesù! Che diavolo era? Resta perfettamente immobile sul fondale! Pare quasi una pianta! Bobby non solo è brutto come la merda ma non ci vede manco una ciola in quanto cieco! Il che in realtà è un bene! Manco la madre vorrebbe bene una schivezza del genere! Per fortuna anche la madre è cieca quindi forse! E' tuttavia dotato di cinquantenne in grado di captare la presenza di prede! E quando ciò avviene! Porca puttana! Ma... dov'è? Ma cosa... Altro che cicciolina! Mi sa che dopo sto video sarò morto dentro un altro pochetto di più! Che bello! Il verme Bobbit è in sostanza una trappola per orsi sul fondale marino Ha un apparato per l'alimentazione che si rivolta in modo estroflessibile Si insomma si rivolta Come un calzino O come un guanto Tipo così no? Ecco se queste fossero le mandibole del pesce Bobbit Queste escono Prendono il pesce e poi Hai capito? Prendono il pesce e fanno così Solo che non sono delle dita Effettivamente le mandibole sono tipo forbici Estremamente affilate Quindi moltissime volte invece di catturare il pesce Lo trancia in due! Di netto! Che bello! E se queste voluttuose labbra sono degne di un film horror Beh Vedeste il resto Na sorta di cosa E' sotto la sabbia che sto stronzone nasconde il pezzo forte E' enorme! Gioca nascondino gioca e ci riesce pure bene Può superare la lunghezza di 3 metri E visto che ha delle graziose zampettine da mille piedi gigante Gli basta fare proprio qualche passettino Che lui subito schizza fuori come... Come... La catapulta! E mo mi dite che cacchio ha fatto di male quel pesce? Stava lì, se ne stava passando, stava per i cazzi suoi E tu! Viene fuori l'alieno dalle visce della terra e... Che cacchio Nooo! Il nostro caro vermone carnivoro è un predatore notturno Di giorno... beh, nonostante sia nascosto una sabbia Può essere facilmente scamato Come un metallaro al concerto di Mario Biondi Ma che di pesce? Beh, mica so scemi Gli soffino addosso E invece no, so scemi! Perché hanno la memoria a breve termine che sfarfalla e quindi... Vabbè Ciao ciao Salutemi a Caronte E non è mica finita qui, eh! Perché la natura vuole proprio spingerti all'alcolismo Con la mossa segreta delle forbici in alto Quando t'acchiappa Ti inietta pure una tossina E che cazzo! Non si capisce bene a cosa serva sta tossina Se serva a narcotizzare le prede o ad ucciderle Anche perché non si è mai capito se effettivamente le prede morissero Per via della tossina O perché spatapocchiate molteplici volte di prepotenza nella sabbia Ecco io La seconda non la escluderei Comunque si sa che dovrebbe aiutarlo a digerire le prede Una volta portate nelle viscere della terra Prede che tra l'altro molto spesso sono ben più grosse di lui Per Bobbitt In effetti Bobbitt non sarebbe nemmeno il suo vero nome Il nome scientifico sarebbe Eunice Afroditois Afrodite Mi spiace non sono un grande latinista Ho detto comunemente anche Eunice di Rimini Non so perché Ma nel dubbio io a Rimini non ci metto più piede Il nome Bobbitt li fu appioppato nel 92 dal dottor Gosliner Quando se lo trovò davanti durante un viaggio nelle Filippine Il dottore ha dichiarato La capacità di mozzare in due le sue vittime Mi ha ricordato il caso di Lorena Bobbitt E chi è mo Lorena Bobbitt? Lorena Bobbitt era all'epoca su tutti i giornali Per un fatterello increscioso Una cosuccia Aveva tranciato il pene del suo marito fai difrago durante la notte Per poi gettarlo in un campo Che bello Questo canale è sempre più family friendly Ad ogni modo Sebbene la signora Bobbitt Abbia effettivamente compiuto il fattaccio Visto che c'erano le prove Ecco nel campo Fattaccio che comunque Continua a causarmi dolore fisico E convulsioni anche solo al pensarci Amico mio Farò sempre attenzione a te lo giù Fu giudicata non colpevole in quanto non in pieno possesso delle proprie capacità mentali Ecco ragazzi la prossima volta che deciderete di lamentarvi il sistema giuridico italiano Pensate a questa signora Questa signora che ha tagliato il din don al marito Lo ha gettato in un campo E le hanno pure dedicato un animaletto E che animaletto Guardate che bello Che poi dai Effettivamente non è brutto Guardate che carino che è Guardate che piccolore E' tutto arcobaleno E' praticamente l'unicorno della famiglia dei vermi alieni satanici Del verme Bobbitt comunque conosciamo ancora poco Perché effettivamente è difficile trovarlo E' ancor più difficile vederlo Visto che si nasconde Figuriamoci provare a capire cosa faccia effettivamente le prede Una volta portate nelle viscere della terra Una volta impizzate come un ombrellone ad agosto Per quanto ne sappiamo potrebbero tranquillamente prendersi un tè Con satana Che stava giusto passandoli lì nelle viscere della terra Lo vede e dice Ciao Bobbitt come va? Ehh bene Riguardo le difficoltà di essere intravisto Ho una storiella un sacco simpatica da raccontarvi Ed in quanto tale ho bisogno di una musichetta Simpatica e felice Correva l'anno 2009 E qualcosa di bizzarro accadeva nell'acquario di Newquay In Inghilterra I pesci iniziano a sparire uno ad uno Senza lasciare traccia Dove diavolo andavano? Che avessero trovato la via di fuga dalla loro prigione trasparente Dove fuggivano? Che avessero tutti visto alla ricerca di Nemo Poi però qualcuno aveva trovato dei pesci mozzati a metà Taglio perfetto Che lo chef Tony fosse passato di lì O era forse stato Gaemon Ci misero trappole ed esche Ma niente I pesci sparivano 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 E nulla si trovava Alla fine dovessero svuotare tutto l'acquario E indovinate un po' chi ci trovarono Proprio lui Il verme infernale Ci si affezionarono e lo chiamarono Barry Anche se poi non mi è chiaro se effettivamente se lo tennero o gli diedero fuoco Spero vivamente nella seconda Infatti il Bobbit quello stronzo quando è molto piccolo può nascondersi nei coralli o nelle rocce no? E se queste vengono portate in un acquario in pratica gli offrono un passaggio gratis E da quel punto non è che ci rimane piccolo per molto eh No no Non sono bellissime le favole di Barbascura E pensate che molti geni lo hanno reso un animale da compagnia Se lo sono portati in casa nell'acquario Perché quando uno è scemo vuol palesare la propria condizione nella maniera più fantasiosa possibile Che c'è sta ridendo far ridere No devi avere paura Ma arriviamo al punto che state sicuramente aspettando tutti voi maledetti pervertiti Come fa all'amore il verme Bobbit? Ebbene Non lo so Ma sono abbastanza sicuro che faccia schifo Nessuno ha mai visto due vermi Bobbit darci dentro O semplicemente Nessuno è mai sopravvissuto per raccontarlo Ma dei ricercatori hanno avanzato una teoria basata su come si accoppino altre e unici idee Famiglia di cui anche Bobbi fa parte Queste infatti subiscono una trasformazione assurda del loro corpo durante il periodo dell'accoppiamento Praticamente perdono il loro guscio Ed ormai denudate Iniziano a nuotare verso la superficie Tutte insieme E qui con questa passione Con questa danza Con questo amore Raggiungono la superficie E all'unisono Tutte insieme Rilasciano una quantità incredibile Assurda Gigantesca Disgustosa Megafotonica Di sperma e uova Tutte insieme Boom Un Cristo santo che schifo Ma pensate che poi sia Una miriade di vermi nudi Nuotare Al tramonto Del mare dei Caraibi Tutti insieme E rilasciano una quantità enorme di sperma Con l'acqua che diventa proprio Gelatinosa Al punto giusto Proprio come piace a te Che bella la natura Comunque tranquilli Non ci sono casi di attacchi all'uomo Per il momento Se non aveste in previsione di andarvi a fare un bagno in Giappone Dovreste essere tranquilli Però Io Per sicurezza Fosse in voi Un'occhiatina nell'armadio ce la darei Non si sa mai Magari anche sotto il letto Come? Dormi con il braccio o pensoloni dal letto? Ah Eh, stai rischiando duro eh Come? Dormi senza le lenzuola Eh ma Non vorrei mica rischiare di trovarti un Bobbit sotto il cuscino Sono tutti che le lenzuola proteggono dai mostri E dai Un salutazzo a tutti Da Barbascura X